E' uno strano lavoro, queste luci invadenti, questi occhi curiosi che ci studiano attenti. Questa attesa, già cesa, chi la tocchi e la senti, non conosci nessuno, ti salutano in tanti, sì. Ma tu, qui davanti, ma tu cosa pensi che ci dia questa vita di più? Quando tutti andate via, qualche storia in più, qualche sbaglio in più. La valigia, già chiusa, vera prossima scena. Non rimane mai niente. Tante mani e nessuna, non rimane mai niente. E di questo alla gente, non ne posso parlare. Ma se tu sai guardare il luogo dove noi dormiamo noi. Una storia vedrai, quello vero che non sai. Ne parliamo se vuoi. Ne parliamo se vuoi. Ne parliamo se vuoi. Grazie a tutti